L'Epifania chiuderà domani 6 gennaio le festività natalizie. Sono diversi gli appuntamenti organizzati in città e in provincia per festeggiare l'evento. A Piacenza si parte alle 9 sul pubblico passeggio per il raduno dei partecipanti alla tradizionale Moto Befana che oltre al tour della Mata Vecchietta tra le vie cittadine proporrà sino al pomeriggio le attività ludiche curate dall'associazione Bikers Against Child Abuse in collaborazione con numerose altre realtà motoristiche del territorio. Non mancheranno come sempre i giochi della tradizione e la distribuzione di dolci per tutti i bambini. Sarà invece piazza Sant'Antonino dalle 11 il fulcro della Befana del Vigile. In collaborazione con il Club Veicoli Storici di Piacenza un corteo di auto d'epoca in partenza alle 10 da strada Regina IV rievocherà la tradizione dei doni agli agenti di polizia municipale. I regali saranno poi destinati in beneficenza mentre i mezzi resteranno in mostra nelle pressi della basilica patronale sino alle 13. Alle 15 la Befana farà tappa la pista di pattinaggio Piacenza on Ice portando gadget e dolcetti grazie all'iniziativa promossa da Cap Service. Nel pomeriggio alle 16 e 30 la basilica di Sant'Antonino sarà teatro del tradizionale concerto del coro polifonico farnesiano diretto dal maestro Mario Pigazzini con accompagnamento all'organo di Alessandro Molinari e Tommaso Battilocchi. Il repertorio spazierà dalle atmosfere natalizie ai canti popolari dalla polifonia rinascimentale barocca e romantica sino a brani contemporanei. L'ingresso è gratuito. Sarà invece il salone monumentale di Palazzo Gotico alle 21 la cornice del concerto corale gospel che vedrà protagoniste le formazioni dei tasti neri i cantori di Casaliggio e le New Sister Gospel Choir. La serata presentata da Andrea Baldini intitolata Notte Solidali prevede ingresso a offerta. Il ricavato sarà devoluto a favore della Onlus Punto e a Capo impegnata nel sostegno a persone con disturbi del comportamento alimentare. Come di consueto nel pomeriggio di domani dalle 14 e 30 la caserma dei Vigili del Fuoco in strada Valnure resterà aperta con un'esposizione di automezzi e attrezzature da provare in attesa dell'arrivo della Befana previsto per le 15. Non mancherà anche il rinfresco organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. I bambini che vorranno potranno portare un gioco in buono stato che la Caritas provvederà a donare alle famiglie in difficoltà. Saranno inoltre presenti i volontari dell'Unicef.